Più di 400 le presenze tra studiosi, medici e specializzanti per la ventesima edizione del corso internazionale della Società of Thalmologici Universitari Italiani ha dato in scena in questo lungo weekend presso il Rettorato dell'Università d'Annunzio a Chieti. Ben nove hot topics presentati dagli specializzanti su altre tante patologie e un confronto continuo e costante con i massimi esperti allo scopo di arricchire le proprie conoscenze e perfezionare le proprie competenze. Un'occasione unica a livello nazionale non solo, impreziosita quest'anno, anche da una sessione specifica svoltasi sabato mattina in collaborazione con Esaso, dedicata alle possibilità di carriera per il futuro dei giovani al termine del percorso di specializzazione in campo ospedaliero universitario nel mondo dell'attività libero professionale e delle clinical research fellowship all'estero. Il presidente della Società of Thalmologici Universitari Italiani, il professor Leonardo Mastropasqua. Infatti questo è un corso che prevalentemente vede i giovani che tra di loro, di tutte le scuole italiane, che tra di loro competono e praticamente si trasmettono quello che è la ricerca che hanno fatto, gli studi che hanno fatto, quello che è il sapere di ogni scuola universitaria. È questo che caratterizza l'università. L'università è ricerca, oltre che didattica, quindi insegnare e poi ovviamente assistenza, chirurgia, tutto il resto. Però muovendo prima la testa e poi le mani. Ecco, questo noi insegniamo ai nostri giovani e molte cose i nostri giovani le insegnano a noi. Ci sono tutte le scuole italiane, tutti i direttori di clinica e di specializzazione d'Italia. Poi abbiamo anche la Medal Lecture che lo scorso anno è andata all'Indon Dacruz, che è il direttore del Murfield di Londra e quest'anno invece va ad un altro grande, che è praticamente il professore di genetica oculare della John Hopkins, e quindi SING, che sarà una cosa molto bella. Quindi è un corso molto seguito, ci sono 400 oculisti che vengono da tutte le parti, tre giornate diciamo molto interessanti, è un pochino dure per noi, siamo gli organizzatori, ma ogni anno abbiamo questo vantaggio di poter portare qui da noi all'Annunzio tutta la gente che è interessata alla ricerca, tutta la gente che è interessata ai giovani, a lanciare i giovani, tutta la gente che è interessata a competere, perché la competizione nel nostro mondo è la cosa più importante, la sala competizione ovviamente. Grazie a tutti.